Un riconoscimento speciale del premio Ischia internazionale di giornalismo è andato a Paolo Borrometi, direttore della Spia e giornalista Agui, che vive sotto scorta da anni dopo le minacce di morte ricevute dalla mafia. Proprio nei giorni scorsi è stato sventato un piano che prevedeva il suo omicidio. La premiazione si terrà l'8 giugno a Ischia. Vincono quest'edizione il sito slovacco Actuality.sk e tra i vincitori per le inchieste delle fotoreporte Cujac, ucciso a febbraio. Zina Amu, ragazza di Asida sfuggita alle persecuzioni dell'Isis, che partecipa al progetto Unicef per diventare fotoreporter. Franca Leusini, condottrice di Storie Maledette, è la giornalista dell'anno per la televisione. Stefano Cappellini, caporedattore di Repubblica, è il vincitore per la carta stampata, mentre a Bruno Pizzul va il premio per il giornalismo sportivo.